Tra 5 minuti inizierà il flash mob, gli organizzatori hanno dato il tempo, tra 5 minuti si va in scena. Si sta creando una certa curiosità tra i frequentatori del centro commerciale, sta iniziando il countdown. Non è l'ultima trovata con l'Italia a un'esigenza democratica. C'è chi ha criticato la pubblicità di questo grande magazzino, criticando in contrasto con la nostra Costituzione. Lo slogan, siamo aperti a tutte le famiglie, unito agli immagini di una coppia omosessuale. Noi ci riconosciamo in un'idea di famiglia plurale e moderna, che si basa sulla libertà e sul diritto di scelta. La nostra famiglia cresce sull'affetto, sulla solidarietà e sulla scelta di stare insieme. Ecco perché abbiamo deciso di essere oggi qui a scambiarci un bacio che simboleggia la nostra idea di solidarietà. Che hai baciato? Una ragazza e un ragazzo? Una ragazza e un ragazzo. Invito tutti quanti a partecipare all'Europride dall'1 al 12 giugno a Roma quest'anno. È il più grande evento di rivendicazione e richiesta di parità, dignità e diritti per le persone LGBT, lesbiche, gay, bisex e transgender, che si svolgerà per quest'anno a Roma. Dall'1 al 12 e l'11 ci sarà la grande parata, quindi è importantissimo per tutto quello che abbiamo fatto oggi e per tutte le cose che abbiamo detto e che abbiamo chiesto, partecipare alla parata dell'Europride 2011. Grazie.